esistono nuove terapie esistono nuove medicine esiste la necessità di affrontare questi cambiamenti in maniera consapevole e responsabile abbiamo bisogno di imparare abbiamo bisogno di crescere abbiamo bisogno di cambiare abbiamo bisogno di affrontare le sfide di tutti i giorni in maniera totalmente diversa volevo esprimere la mia soddisfazione perché da una parte questo cambiamento è visibile anche nei numeri dall'altra questo cambiamento lo vediamo anche nella partecipazione delle persone di tante persone al cambiamento dell'azienda il nostro futuro è nel controllo delle conoscenze quindi vi ringrazio per il contributo che avete dato tutti fino ad oggi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti